Il Sacrario del Pasubio è stato restaurato grazie all'aiuto e al sostegno di Cuala di Chi? Per il momento il Sacrario del Pasubio è stato restaurato così come lo vedete oggi, grazie all'intervento e quindi alla generosità di molti privati. Abbiamo suddiviso la Torre del Sacrario in quattro stadi e naturalmente sono stati affidati a Fiera di Vicenza, all'Associazione Nazionale Alpini, a Ragioniere Giancarlo Ferretto, ai comuni che hanno fatto la parte della Cuspide, ma anche alla Cabi Cattaneo che ha fatto una gran parte, ha sponsorizzato una gran parte dei lavori in esterno, sono forse quelli che adesso si vedono ancora meglio e quindi fino a questo momento ci siamo avvalsi unicamente del contributo dei privati, dei privati che hanno creduto in questo progetto, hanno creduto in questa splendida idea di restaurare questa tomba di 5.000 soldati che adesso abbiamo restituito al culto di tutti. Ecco, il progetto Museo Diffuso invece? Ci sono altri enti che lo sostengono? Certo, il progetto del Museo Diffuso viene sostenuto dal Comune di Vicenza, dalla Regione Veneto e dalla Cassa Rurale e Artigiana di Brendola che ha partecipato a questo progetto, credendo proprio nel modo di suscitare questo fuoco della conoscenza dei ragazzi che vengono a visitare questi luoghi e che ricevono sul posto una minima lezione di storia. Daniele Andreose, segretario della Fondazione 3 Novembre, per questo progetto con le scuole, il progetto Museo Diffuso, chiamato, in che cosa consiste questo progetto? Il progetto è un progetto che si articola in diversi modi, la più importante, la principale forse è quella di poter favorire le scuole, nel mondo scolastico vicentino, della città ma anche alcuni comuni dell'Interland, per poterli portare le scuole qui al Sacrale del Monte Pasuvio e spiegare ai ragazzi con delle lezioni dal vivo sui luoghi della Grande Guerra quello che è il significato che vogliamo continuare a proporre del centenario dall'inizio della Grande Guerra. Ecco, l'importanza per le scuole scolaresche di queste iniziative, di imparare della Grande Guerra, del passato? Ma i ragazzi sono molto ricettivi per la verità e quindi riescono a metabolizzare in loro stessi i messaggi che noi diamo. Noi li portiamo su questo luogo, noi li portiamo a visitare un sacrario che ha i resti di 5.000 caduti, italiani e austriaci, e sono affratellati nel supremo sacrificio. Li portiamo a visitare il museo che abbiamo fatto per lasciare un significato di raccontare una storia la storia dei soldati che si sono fronteggiati sul massiccio del Monte Pasuvio proprio in questo ambito, forse ristretto rispetto a tutto il conflitto mondiale del fronte della prima armata sul massiccio del Monte Pasuvio. Ecco, infatti, il Pasuvio è un monumento nazionale. Cosa rappresenta per la Grande Guerra come monumento, come simbolo del ricordo di questo centenario della Grande Guerra? Beh, è un passaggio fondamentale, importantissimo, che ha determinato l'esito della Grande Guerra, particolarmente nel 1916, ovvero con la Strafe Spedition, in quanto l'avanzata austriaca che era già iniziata e che aveva sfondato il fronte della resistenza minima, benché minima, offerto nella Val di Posina, in quel di Arsiero, e si era fermata a Ponteschiri, avrebbe dovuto scendere, ecco lì, da Porte Pasuvio e invadere poi la pianura per accerchiare, per prendere alle spalle, ancora meglio, le truppe sull'Isonzo. Allora, l'esito della Prima Guerra sarebbe stato leggermente differente. Noi cerchiamo di spiegare questo, che è scritto nei libri di storia, ma quando i ragazzi vedono questa montagna straordinaria che è il Pasuvio e capiscono le azioni di guerra nel plastico che c'è nel Museo della Prima Armata, beh, allora sicuramente la loro uscita didattica diventa davvero una lezione di storia dal vivo. Ecco, ultima cosa, avete aperto anche un museo, non forse tanti lo sanno, perché è da pochi anni che è aperto, un museo molto bello che abbiamo visitato e ci racconta come è nata questa idea, il museo, come è strutturato. Sì, il museo è nato dalla mente fervida di Gianni Peris, del generale Innecco, di Fabrizio Dilda, di Franco Mastrovita, di tante altre persone che hanno dato il loro apporto storico per costruire delle ambientazioni. Noi però ci siamo ispirati alla Sala dell'Apoteosi che c'è nella Torre del Sacrario, illustrata dal pittore Titocchini, in quanto anche lì sono illustrate le trincee, la preghiera dei soldati, c'è la figura del maresciallo, c'è un pochettino tutto quello che riguarda la guerra portata nel Sacrario. E noi abbiamo fatto quasi altrettanto, abbiamo individuato dei momenti importanti della vita di questi soldati, che i soldati hanno combattuto sul Monte Pasubio e li abbiamo riprodotti molto in piccolo in questo nostro museo che io amo definire un grande museo in un piccolo spazio. È un museo che comunque è descritto anche nel sito della fondazione www.osauridelpasubio.it e dove annualmente vengono sì le scolaresche guidate con questo progetto di museo diffuso ma anche vengono singolarmente per loro spontanea volontà. Noi li assistiamo con le guide che mettiamo a disposizione.